Attrezzature per un valore complessivo di 2.615.000 euro è quanto donato dal 2004 ad oggi e dalla Fondazione Casa di Risparmio di Fanno all'ospedale Santa Croce. Le ultime due parecchiature sono state presentate oggi nella sala riunioni della direzione medica. Si tratta di una colonna endoscopica di un costo di 60.000 euro che va a completare un percorso di potenziamento del reparto di Otorino con una dotazione tecnica dell'unità operativa meglio attrezzata della Regione Marche. L'ennesimo dono della Fondazione Carifano permette di essere all'avanguardia per le patologie faringee e laringee. Il secondo strumento invece è un ecografo portatile di ultima generazione di un costo di 50.000 euro che rappresenta un passo in avanti per ottenere ecografie ad alta definizione. Pesando solo 8 kg è trasportabile e ci consente di eseguire esami al pronto soccorso, in rianimazione dove veniamo chiamati e quindi arrivare immediatamente. Fino ad ora avevamo ecocardiografi che pesavano da 150 a 200 kg, quindi andare da un padiglione all'altro dell'ospedale con un ecocardiografo di 150 kg è lento, problematico. Viene utilizzato anche in terapia intensiva per eseguire l'eco a letto dei pazienti perché lo spazio è esiguo ed essendo molto piccolo ci consente di eseguire ecocardiogrammi molto rapidamente non spostando i letti dei pazienti e soprattutto non spostando i pazienti che spesso e volentieri invece facevamo scendere presso il laboratorio di ecocardiografia. Orgoglioso di queste donazioni il direttore generale Aldo Ricci che ha sottolineato la grande attenzione e sensibilità della fondazione Carifano verso le esigenze della sanità e il benessere della popolazione. D'altra parte il presidente Fabio Tombari si augura di poter continuare la collaborazione con l'azienda ospedaliera anche quando Ricci lascerà il suo incarico. Noi abbiamo fatto un lungo percorso con il dottor Ricci che ringrazio per la collaborazione e abbiamo fatto dei programmi che prevedevano anche l'acquisizione di apparecchiature importanti. Però bisogna adesso che questo programma fatto col dottor Ricci venga confermato con il nuovo direttore. Spero che venga nominato presto e quando sarà nominato ci incontreremo e bisognerebbe coordinare anche l'attività di carattere ospedaliero anche con l'area vasta numero uno della provincia di Pesaro, specialmente per quanto riguarda l'acquisto dello York. Tombari inoltre ha annunciato che il prossimo anno verranno donate ulteriori apparecchiature d'eccellenza grazie ad una disponibilità economica di un milione e duecentomila euro. Ma i medici li hanno già avanzato delle richieste per il futuro? Tante, tante richieste. Però queste richieste vanno poi vagliate dalla direzione generale dell'ospedale che deve nella sua programmazione valutare quelli che sono più urgenti.